Un giro e un giro per Bologna e mi sono soffermato sul complesso delle sette chiese, come al solito sono stato un po' incontidente con gli scatti, per cui dolorosamente ho scartato, 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 però mi tocca fare due parti, una prima parte con l'esterno e una seconda parte con gli interni delle sette chiese del complesso. Vi auguro di avere la pazienza di arrivare sino in fondo e vi auguro una buona visione. Alla seconda parte. Grazie a tutti. 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 Se posso usare di più vi chiederei anche di linkare, cioè di condividere con i vostri amici questo canale. È facile, grazie.